amici buongiorno e bentornati a una nuova puntata di 9.000 giri elaborazioni autosportive oggi vi vogliamo rispondere a una delle domande più frequenti che cosa fare su una macchina con un determinato budget e di solito soprattutto in questi tempi il budget a disposizione non è un budget infinito soprattutto se uno vuole fare un determinato tipo di lavoro magari non facendo la tranche quindi abbiamo pensato di fare un video identificando una cifra di più o meno poco più di un migliaio di euro basata su un paio di vetture che sono fra quelle più gettonate quelle recentemente più richieste quindi abbiamo selezionato una suzuki swift ecoboost booster jet scusate il 1.4 booster jet sia in versione normale che in versione ibrida e come alternativa una onda civic 1.5 VTEC la stessa cosa si può fare anche sul motore 1000 quindi che sia appunto la versione da 182 cavalli o la versione da 126 la tipologia di lavoro e il budget a disposizione grosso modo completano queste si possono fare su entrambi i modelli la swift sport invece la versione da 129 cavalli con un budget appunto di questo genere specifichiamo appunto che iniziamo sul discorso motore quindi ci limitiamo all'ambito motore quello che di solito noi proponiamo è fare un bel lavoro sullo scarico e un lavoro sull'elettronica quindi diciamo completare in maniera direi abbastanza completa la parte motore con scarico e elettronica vediamo nel dettaglio a questo punto prima partiamo dalla 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 swift quello che si può fare noi proponiamo come abbiamo specificato tante volte nei video precedenti nell'accoppiamento di un terminale sportivo omologato sul quale diamo la fischi di omologazione in maniera tale che per qualunque controllo non ci siano problemi di sorta al quale abbinare nel caso ci sia un centrale diretto quindi andiamo a vedere noi di solito lavoriamo con diverse case per quanto riguarda il discorso della swift abbiamo preso come riferimento la ragazzon la ragazzon propone come terminale un duplex con le uscite in carbonio da 118 mm il fatto che abbia il barilotto in questo in questa posizione sulla destra lo rende omologato quindi c'è anche la definizione omologato e appunto questo terminale essendo duplex da un sound più sportivo rende la macchina più più appagante infatti se uno va poi a vedere nello specifico le uscite della del terminale che sono queste escono con i due terminalini in carbonio quindi direi anche da un punto di vista estetico molto molto bello ritornando al discorso scarico quindi abbiamo visto il terminale al quale andremo ad abbinare qui ci sono due tipi di centrale per avere un sound ottimale a questo terminale andiamo abbinare il centrale diretto che sostanzialmente questo che va a eliminare un rompifiamma posizionato in questo in questo punto la somma dei due quindi eliminare rompifiamma e ridurre quello che è il silenziatore finale l'abbiamo già verificato su diverse swift ne abbiamo già elaborate parecchie se andate sul sito nella sezione suzuki potete vedere diverse di queste vetture e le abbiamo grosso modo sempre trattate con questo genere parlando di scarico ovviamente le abbiamo sempre trattate con questo genere di abbinamento quindi centrale diretto e terminale omologato passando alla sorella diciamo alla sorella onda civic stessa cosa in questo caso la casa che utilizza cioè che propone componenti per questa per questa vettura nello specifico è la inox car inox car che propone appunto un terminale questo questo stiamo vedendo la versione civic 1500 v tech quella da 182 cavalli pre restyling un terminale dopo uscita sempre omologato anche in questo caso c'è la possibilità di giuntare fra la parte anteriore al terminale un tubo diretto quindi praticamente otteniamo più o meno con gli stessi costi una linea di scarico di ottima fattura sono tutte e due ditte italiane che producono scarichi da tanti anni vanno su in maniera perfetta non c'è nessun tipo di controindicazione a livello di perdita di pressione per cui non ci sono dei decrementi di contropressione per cui la macchina sotto perde in basso la macchina con questi due accorgimenti non guadagna anche qualche cavallo ovviamente quello che ne beneficia oltre a un discorso estetico è un discorso di sound sempre comunque compatibilmente con quelle che sono le normative cioè il sound deve rimanere il suono deve sempre rimanere dentro nei 92 decibel in maniera tale che se uno dovesse essere fermato non incorre in sanzioni sempre mi riallaccio al discorso precedente che cosa posso fare con un budget di 1000 1200 euro quindi uno scarico completo come questo al quale abbinare una centralina elettronica quindi una centralina elettronica che noi possiamo normalmente questo tipo di macchine sono tutte macchine molto recenti e sono quasi tutte quelle che ci sono capitate fino adesso sono tutte in garanzia quindi come ho spiegato tante volte se una macchina in garanzia al posto che riprogrammare il software della centralina principale questa centralina generica di una golf è giusto per far vedere quello che stiamo dicendo quindi non andiamo a riprogrammare il software della centralina principale che ha un controllo approfondito diciamo sempre si scopre cioè la casa madre o il il concessionario può tranquillamente scoprire facilmente che è stato modificato il software e potrebbe spesso e volentieri far decadere la garanzia come si fa per avviare il sistema molto semplice al posto che programmare questa centralina programmiamo una centralina esterna quindi non una centralina aggiuntiva ma una centralina esterna sulla quale noi impostiamo il nostro software che viene montata con dei bypass in parallelo su quella principale in questo caso qualunque controllo fatto via preso bd dimostra che la centralina principale non è stata toccata il consiglio chiediamo noi i nostri clienti prima di andare in assistenza più che altro per un discorso visivo di staccare la centralina con un connettore molto semplice si sgancia la centralina la macchina ritorna si mette il tappo di chiusura la macchina ritorna perfettamente come era prima non ha nessun tipo di segnale né in memoria né come spie accese per cui qualunque controllo la macchina risulta assolutamente originale quindi discorso della garanzia è uno degli aspetti che dal nostro punto di vista è fondamentale soprattutto per macchine che negli ultimi anni hanno portato l'estensione di garanzia dagli iniziali due un anno come si faceva tanti anni fa a due adesso ci sono macchine che hanno garanzia di 5 7 anni addirittura quindi bisogna mettere i clienti nella condizione di poter vivere tranquillamente e non avere dei come dire delle preoccupazioni sul fatto che anche dopo 5 6 anni la garanzia possa decadere quindi diciamo che con una cifra relativamente contenuta riusciamo a fare due ottimi lavori come diciamo noi non si tratta tanto di elaborazione quantomeno di ottimizzazione sia un beneficio a livello di prestazioni perché chiaramente essendo due macchine turbo in entrambi i casi le prestazioni sono oltre i 20 cavalli nel primo caso mi sembra che siamo sui 25 26 cavalli di incremento per l'esattezza siamo a 32 cavalli di incremento e 56 nitometri di coppia qualche cosa di meno sulla sulla onda comunque vuol dire che la differenza rispetto alla macchina stock avendo appunto 30 cavalli su 129 proporzionalmente parlando la macchina si comporta in maniera decisamente diversa cioè tutto l'arco di erogazione sia di coppia che potenza viene completamente modificato oltretutto uno dei vantaggi è anche quello di diminuire leggermente i consumi cosa che purtroppo in questi ultimi periodi male non fa il fatto di viaggiare a velocità costante la macchina girerà un numero di giri leggermente più basso rispetto a quello che gira adesso e questo è il motivo per il quale percentualmente parlando nel corso di un anno la macchina consumirà meno quindi in sostanza abbiamo speso abbiamo consigliato il cliente che spende una cifra relativamente contenuta per avere un diciamo un beneficio da un punto di vista prestazionale appunto con la centralina un beneficio a livello di sound perché tanti nostri clienti forse uno degli aspetti che ci chiedono di più è proprio quello di avere un rombo un pochino più sportivo perché negli ultimi anni si è proprio perso nella notte dei tempi non è più come tanti anni fa dove c'erano queste belle macchine che suonavano in maniera sportiva adesso praticamente qualunque macchina anche la più sportiva veramente è indecente come tipo di risultato e anche da un punto di vista estetico il fatto di avere dei terminali magari cromati piuttosto che più grossi comunque sempre diciamo eleganti anche questo è un discorso di appagamento che male non fa direi che per il momento è tutto vi consigliamo di andare a vedere questo è proprio un caso diciamo generico per dimostrare appunto che con una piccola cifra si riescono a fare determinati lavori se volete fare avere degli approfondimenti ulteriori andate sul sito nella sezione archivio elaborazioni www.nominegiri.it archivio elaborazione cliccate sulla marca in alto cliccate sulla marca e ci sono più di 3500 schede ovviamente suddivise nelle varie marche quindi per qualunque approfondimento ci potete chiamare dopo aver visto la scheda della vettura ci potete chiamare in ufficio io sono sempre qua ci trovate da lunedì al venerdì dalle 9 e 30 fino alle 19 la sera e cosa che vi chiediamo per supportare il nostro canale cliccate sulla campanella iscrivetevi al canale in maniera tale che tutti i video che noi andremo pubblicare vi verranno segnalati e rimanete sempre ragionarsi su tutto quello che noi facciamo per il momento è tutto grazie alla prossima